Una boccata d'ossigeno per la città, così il sindaco di Chieti, gli assessori, i consiglieri di maggioranza hanno definito l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 proprio ieri e si sono affrettati a voler di coninformare i cittadini in una conferenza stampa. Dopo polemiche e vicissitudini, oltre al bilancio, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2021 e il bilancio è stato detto contiene una programmazione ad ampio raggio, come spiega l'assessore competente Tiziana della Penna. Preciso che il bilancio è stato approvato nei termini rispetto alle scadenze normative e un bilancio che dopo il periodo pandemico è un guarda proprio alla ripresa dell'attività amministrativa in maniera ordinaria, almeno ci si auspica. è un bilancio che presenta una manovra finanziaria di circa 190 milioni di euro è un bilancio in cui dopo tantissimo tempo vediamo il non ricorso all'anticipazione di tesoreria che è un elemento fondamentale in quanto per tanto tempo purtroppo si è dovuto fare questo. Anche il disavanzo è sceso, prosegue l'assessore, insomma si vuole ridisegnare la città. Quali sono le prime opere che partiranno? L'assessore Stefano Rispoli. Partiremo sicuramente da elementi importanti come la Villa Comunale dove insieme all'assessore Zappalorto abbiamo dato un progetto nuovo di riqualificazione e viabilità all'interno della Villa Comunale. Oltre questo partirà anche l'altro progetto sempre all'interno della Villa Comunale cioè la riqualificazione del campetto alla Villa. Oltre questo continueremo con gli interventi sulla sicurezza stradale per riqualificare le strade che sono in condizione pessima in città. Come via Pescara, via Paolucci, via Maiella per un totale di 450 mila euro sulla sicurezza stradale. Inoltre ci sono i fondi del PNRR. Che riguardano sempre la sicurezza stradale. Parlo della messa in sicurezza del ponte di via Umano di Brecciarola, parlo dell'intervento su via Gran Sasso. Oltre questo interventi sulle periferie della città con un totale di 700 mila euro sia per quanto riguarda le frane sia per quanto riguarda la pulizia dei fossi. Quindi sono interventi che di fatto vanno a risolvere problemi annosi che fino adesso nessuno si è occupato.